Ciao da Apsim! Anche se sono passati due giorni, veniamo ai numeri, ai dati, alle statistiche di Nanto Juventus 0-3. Non ho avuto bisogno di riguardare la partita perché è stata una partita sostanzialmente monotematica, l'ho seguita con grande attenzione anche perché la componente emotiva è scemata intorno al ventesimo minuto dopo il 2-0, quindi l'abbiamo guardata anche con rilassatezza, con serenità e questo ha contribuito a fermare meglio in testa le immagini di quella che è stata appunto la dinamica della gara. Una partita in cui sicuramente la Juventus ha giocato meglio, ha giocato più palloni, ha attaccato decisamente di più, alla fine il 3-0 è ampiamente meritato ma dobbiamo assolutamente parlare di quello che è successo al sedicesimo minuto e cioè l'espulsione di Pallois. Prima di farlo vi raccomando di scaricare OneFootball gratis dal primo link in descrizione, un'app con la quale potete guardare gli highlights di tutte le partite della Juventus e anche gli highlights di tutte le partite di Serie A, Serie B e Serie C, quindi gratuitamente oltre a leggere tante notizie con OneFootball potete star comodi, scaricate l'app dal primo link in descrizione gratis o anche dal QR code che vedete qui. E allora che cosa succede al sedicesimo? C'è questo colpo di tacco di Di Maria dopo un'incursione in area su passaggio di Rabiot, su questo colpo di tacco la palla sbatte sul braccio di Pallois che lo tiene semplicemente per abboggiarsi a terra, ma di fatto aumenta la volumetria e intercetta il pallone che sarebbe quasi sicuramente finito in porta, rigore sacrosanto, rosso inevitabile. Si è discusso anche di questo, rosso è esagerato, il rigore ci sta, sorvoliamo. Adesso non è il caso di parlare di questo. Di fatto la partita si interrompe e cambia completamente il volto e allora andiamo a vedere le statistiche. Non ha neanche senso, dal mio punto di vista, guardare le statistiche complessive della partita. E dobbiamo parlare di questa espulsione però perché non lo sta facendo nessuno. Cioè tutti quelli che stanno commentando la partita stanno parlando della tripletta di Di Maria, del grande gol di Di Maria, di una bella Juve, di fagioli, vediamo anche i numeri di fagioli, magari di Rabiot, di questo e di quell'altro. Sì ma abbiamo giocato in 11 contro 10 per quasi tutta la partita. Al sedicesimo viene espulso Pallois, poi ovviamente passa qualche minuto tra proteste, comunque un controllo VAR che c'è stato, la trasformazione del rigore e quindi diciamo che dal ventesimo, anche se poi ci sono giocati 5 minuti di recupero appunto, nel primo tempo sono 75-80 minuti, compreso anche il recupero del secondo tempo, 3 minuti in cui la Juve ha giocato in superiorità numerica. Questo che cosa ha cambiato? Che partita ci sarebbe stata se la Juve non fosse stata in superiorità numerica, se il Nantes non avesse avuto questa espulsione? Allora parto da questo, una frase molto bella che ho sentito dire una volta ad uno studioso. L'assenza di certezza, l'assenza di certezza, non è certezza di assenza. Che cosa vuol dire? Che se io non so, non vuol dire no. Se io non so se una cosa c'è o non c'è, è vera o non è vera, non significa che non è vera. Significa che non lo so. Allora noi non sapremo mai come sarebbe andata Nantes o Juventus se Palluano fosse stato espulso, ma questo non ci vieta di farci delle domande. O non ci consente di dire che la Juve avrebbe vinto lo stesso. Non ci consente di mettere un bel bollino con un bel no sopra. E non lo so, e rimane non lo so, ma le domande ce le dobbiamo fare. Sulla base di cosa? Sulla base dei dati. E quindi ho raccolto i dati di WhoScored che mi consente, infatti è una cosa che se volete divertirvi potete farla anche voi, andate su WhoScored, recuperate la scheda della partita e muovete il cursore in basso, c'è proprio la timeline, dove potete mettere minuto di inizio e minuto di fine. Se voi selezionate da minuto 1 a minuto 16 e poi da 17 al resto, avete due tronconi diversi. Io ne ho diviso in tre tronconi perché nel primo tempo dopo l'espulsione e in tutto il secondo tempo, secondo me, ci sono state due Juve un po' diverse e infatti i dati lo confermano, soprattutto perché nel secondo tempo la Juve si è alzata parecchio. Allora andiamo a vedere le statistiche. Prima del secondo tempo, poi del resto del primo tempo dopo il sedicesimo, e poi di quello che è successo in quei 16 minuti, compreso il gol di Di Maria, quindi che è stato l'unico tiro tra l'altro della Juve, un gol meraviglioso, per capire che differenza c'è e cosa ipoteticamente sarebbe successo in 11 contro 11, se dobbiamo parlare di prestazione. Io non sto mettendo in discussione il risultato, sto cercando di parlare di prestazione, che è slegata dal risultato. Però, ripeto sempre, se una squadra è forte, e ci si esalta perché una squadra è forte, non si dovrebbe aver paura, non si dovrebbe aver paura di parlare di prestazione. Invece puntualmente, per la Juve, quando vince si dice che è forte, dopo aver detto che i giocatori sono scarsi, dopo aver detto nelle partite precedenti che i giocatori sono scarsi, si dice che la Juve è forte, ma non si ha mai il coraggio di andare ad analizzare la partita. E questo per i tifosi, per gli opinionisti, gli addetti ai lavori e i giornalisti, salve rarissime eccezioni. Perché se è forte non dovresti aver paura di dimostrarlo. Andiamo a vedere se la Juve è forte. Dal 45esimo, in 11 contro 10, i numeri sono stati. Possesso Juve 69 a 31, quindi ampio possesso della Juventus nel secondo tempo. Di conseguenza, anche per quanto riguarda i tocchi, 468 a 255. Quindi parliamo praticamente di una bella differenza. Passaggi, 381 la Juve, solo 168 il Nant, con una precisione Juve 97%, Nant 90. Quindi è stata una partita gradevole da questo punto di vista, pulitissima. Ma questo perché la Juve era in superiore della numerica e abbiamo rallentato tantissimo il gioco. Nel secondo tempo non abbiamo accelerato. Abbiamo ristagnato, come ha detto anche Allegri, che però si riferiva più, credo più al primo tempo. Ma comunque, cioè, è stato un gioco improduttivo alla fine. Siamo riusciti a fare gol, ci sono state le occasioni, adesso vediamo anche quanti tiri, ma questo fondamentalmente perché il Nant non ha mai, quasi mai attaccato, tranne i minuti finali. E quindi abbiamo avuto addirittura il 97% di precisione, che è iperbolico, che è quasi irreale, ed infatti normalmente la Juve è sull'85% di media in campionato. Quindi com'è che riusciamo a fare il 97%? Perché eravamo in superiore da numerica? Perché i giocatori sono scarsi? Faccio domande, faccio domande, voi potete cercare le risposte dove credete. 9 ki-passes a 4, 11 tiri a 5, di cui nello specchio 6 per la Juve, 3 per il Nant. Dribbling tentati, 11 per la Juve a 10, due li aerei vinti, 2 la Juve, 4 il Nant, anche perché si sono difesi di più, 12 però, i contrasti tentati della Juve, 10 quelli del Nant, ancora 12 spazzate difensive, la Juve a 13 del Nant. Questa non so come si possa spiegare, semplicemente perché nei minuti finali abbiamo subito il forcing e quindi abbiamo iniziato a spazzare come se non ci fossero domani, due intercetti a 2 e tre corner a 3. Tra l'altro concedere tre corner non è stato bene, però come dicevo anche nel commento post partita, sul 3-0 chi se ne frega, cioè di abbassarsi a fare la difesa strenua, tra l'altro dopo l'uscita di Di Maria, a che serve? Puoi anche prendere gol, questa paura di prendere gol diventa pericolosa per partita in cui te la devi giocare a viso aperto. Quindi sul 3-0 tu puoi continuare ad attaccare, devi continuare ad attaccare, invece ci siamo difesi. Dal sedicesimo al quarantacinquesimo, cinquantesimo poi, perché ci sono stati 5 inutili recupero invece, quindi nel primo tempo, dopo l'espulsione, come sono stati i dati? 69, scusatemi, 63 a 37 di possesso palla, quindi leggermente meno, ma comunque rispetto al secondo tempo, ma un possesso palla molto ampio. Come vi dicevo, sono state due partite un po' diverse. 282 tocchi a 198, quindi differenza ma non enorme, 230 passaggi a 131, e qui abbiamo in effetti quasi il doppio, con una precisione del 90% la Juve e 86 il Nant. Quindi più o meno la stessa differenza che avremmo visto nel secondo tempo, ma in termini assoluti, decisamente al di sotto. 4 chi pass la Juve, 1 il Nant, 7 tiri la Juve, 2 il Nant, 5 tiri nello specchio la Juve, 1 il Nant, dribbling tentati, 13 il Nant, la Juve 6, la Juve è una squadra che tenta pochissimi dribbling, uno contro uno, nonostante la qualità tecnica dei giocatori, questo secondo me è sintomo anche di sfiducia e di poca autostima, 3 duelli aerei vinti la Juve, 1 il Nant, 15 contrasti tentati la Juve, 6 il Nant, 7 spazzate a testa, continuiamo sempre a spazzare a caso, 5 intercetti del Nant, solo 2 la Juve, e 3 corner la Juve, 0 il Nant. Quindi una partita dominata, una fase della partita dominata, una fase della partita produttiva, anche di tiri, di corner, di occasioni, senza correre sostanzialmente pericoli, perché appunto il Nant, 2 tiri di cui 1 nello specchio e 0 corner, significa che non hanno praticamente attaccato, e non abbiamo rischiato di prendere gol. E questi sono stati i dati del primo tempo, e quelli del secondo tempo ve li avevo già enunciati, sempre in superiorità numerica. Andiamo a vedere nei 16 minuti di parità numerica, parità numerica, parità numerica, non il Nant 1 in più, parità numerica, come è andata la situazione. 16 minuti, non solo i primi 4 prima del gol di Di Maria, che già sono stati da incubo, i 16 minuti, quindi il quadruplo del tempo, fino a che non è stato espulso Pallois. Abbiamo avuto possesso palla Nant 71, Juve 29, cioè anche più di quello che ha fatto, all'inverso la Juve nel secondo tempo. 71 a 29, ed eravamo in parità numerica. Tocchi 153 a 82, quasi il doppio, ed eravamo in parità numerica. Passaggi 118 a 48, quasi il triplo, ed eravamo in parità numerica. precisione 85 a 69, a 69% la Juve, ed eravamo in parità numerica, e noi eravamo la Juve e loro il Nant. Chi passes 2 a 1 per il Nant, tiri 3 a 1 per il Nant, in porta 0 a 1 per la Juve, gol di Di Maria, gol da casa sua, tiro in porta, cioè spettacolare, un'invenzione tecnica, ma fino a quel momento, fino al sedicesimo, non c'erano state neanche, 0 altri tiri, cioè solo quel tiro, capite? Poi arriva l'azione di Di Maria, che fa 3 tiri praticamente nella stessa azione, perché 1 ribattuto, il colpo di tac, e poi il rigore. Quindi vengono conteggiati 3 tiri in porta a Di Maria, in quei minuti lì, dal sedicesimo in avanti, nel sedicesimo e nel diciassettesimo minuto. Però appunto, fino a quel momento era solo il tiro di Di Maria, ma 3 del Nant, di cui 0 nello specchio, e 2 tiri respinti. Cioè il Nant aveva fatto 1 tiro fuori, e 2 respinti. Sempre perché ci mettiamo asserraiati con il principio dell'impenetrabilità dei corpi. Dribbling tentati, 5 il Nant, noi solo 2. Duelle aerei vinti, 5 il Nant, noi solo 2. Contrasti tentati, 4 il Nant, noi 6. Spazzate, 2 il Nant, noi 6. Intercetti, 3, noi 1. Corner, 1 a 0 per loro. Queste erano le statistiche di Nant e Juventus, 0 a 1, fino al sedicesimo. Ora, la domanda è, come possiamo regredire alla media, ecco, ridurre, o ad una mediana, come preferite, questi dati, questi momenti di questa stessa partita. Come possiamo proiettare anche, proiettare, i 16 minuti, su una partita da 90 minuti, in parità numerica? Che cosa ne viene fuori? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ma siamo tenuti a farci la domanda. Siamo tenuti a farci la domanda. E io vi do una risposta, perché su una cosa penso che siamo sereni. Non sapremo mai come sarebbe andata, ma abbiamo la certezza, diciamo, al 99,9%, che, se fossimo rimasti in parità numerica per tutta la partita, non avremmo assolutamente visto i dati della Juve che abbiamo visto in superiorità numerica. Cioè, magari il Nanto non avrebbe finito la partita con il 71% di possesso, magari neanche con il 60% di possesso, magari avrebbe vinto la Juve, ma sicuramente 99,9% i dati che abbiamo visto della Juve in superiorità numerica in parità numerica non li abbiamo visti. Niente 90% di possesso, figuriamoci 97, di precisione, scusatemi, niente 60-70% di possesso, niente tutti quanti questi tiri e tutti questi passaggi, eccetera. Per me, io ho la certezza di questo. E quindi, che valutazione diamo alla prestazione? È una prestazione che non si può valutare. Si possono valutare solo quei 16 minuti lì. E non perché in quei 16 minuti la Juve ha sofferto e quindi posso dire che ha giocato male e sono contento, ma perché sono gli unici minuti della partita in parità numerica. Dopo, non ha più senso. Non ha più senso. Ma dobbiamo osservare come in parità numerica la Juve è stata schiacciata, è stata surclassata sotto tutti i punti di vista, tiri, passaggi, tocchi, precisione dei passaggi, baricentro, dribbling, corner, su tutto. Ovviamente, tranne il gol e soprattutto con il possesso, in particolare con il possesso, con l'aggressività, con la voglia di giocare a calcio, surclassata, schiacciata, calpestata. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Poi le chiacchiere stanno a zero. Sul resto delle partite si possono fare tutte le valutazioni che volete, ma c'è sempre asterisco in 11 contro 10. Se no, non va bene. Se no, non va. Quello lo devi scrivere per forza. Ora, i dati complessivi della partita di Di Maria e di Fagioli li voglio comunque leggere come cosa positiva di cui andiamo fieri, ma sempre asterisco superiorità numerica. Di Maria, 91 tocchi, 73 passaggi, con il 90,4% di precisione, tre cross indovinati su quattro, un filtrante indovinato su due tentati, sette tiri in porta su sette totali, una cosa, già solo sette tiri, ma sette in porta è un'enormità, e due chi passis. Fagioli, che secondo me è stato l'altro, grande giocatore della partita e migliore in campo dopo Di Maria, 59 tocchi, 44 passaggi, 95,5% di precisione, un cross indovinato su due, zero filtranti indovinati su uno tentato, zero tiri in porta su uno comunque tentato, era anche non male il tiro di Fagioli, e due chi passis, oltre a quattro contrasti tentati. Oltre a queste statistiche, volevo concludere con le pass map, perché siccome con la partita con lo Spezia ve le ho fatte vedere e ho detto che schifo, la pass map della Juve, stavolta è meglio e ve la faccio vedere, se no poi mi dite, sei in mala fede, ci nascondi, non ci fai vedere le pass map di Wisecout quando la Juve gioca bene, ma sempre asterisco superiorità numerica. Quella del Nant, intanto non è male, intanto la pass map del Nant non è male, perché intanto abbiamo che la metà del possesso il Nant l'ha fatta nel terzo centrale, quindi non ha avuto, non si è abbassato il Nant come possesso, si è abbassato in non possesso nel terzo difensivo, ma appena recuperava palla saliva a giocare davanti e quindi la metà del possesso, nonostante tutta questa inferiorità numerica prolungata, l'ha fatta nel centro del campo, poi 24 e 25 addirittura leggermente in più in attacco. La distribuzione dei giocatori in campo mi sembra congrua, mi sembra sensata, ovviamente come vedete c'è un assetto chiaramente su 9 uomini di movimento, quindi con una difesa che è passata a 3, prevalentemente le linee di passaggio come ben potete vedere sono state in difesa tra 3 e 21 e tra 21 e 28 reciprocamente, da 3 a 21 e da 21 a 28 andate e ritorno, per il resto non una grossa mole di gioco, ma questo soprattutto per l'inferiorità numerica, però sono stati in campo piuttosto bene e non hanno giocato male. La pass map della Juve ovviamente è ottima dal punto di vista dell'intensità e forse anche della disposizione delle posizioni medie e soprattutto della distribuzione dei tocchi, quindi più della metà dei tocchi nel terzo centrale, ma ben un terzo nel terzo offensivo, pochissimo nel terzo difensivo, soprattutto complice quello che è accaduto nel secondo tempo. La linea di passaggio più intensa è da Di Maria a Rabiot, però vediamo benissimo anche da Locatelli a Danilo, da Danilo a Quadrado, Desciglio, più Desciglio che Quadrado e viceversa, Danilo Bremer, anche Alexandro Locatelli, Alexandro, Kostic e viceversa, da Rabiot a Kostic, quindi comunque ci sono state delle trame di gioco, ma ripeto, la Juve ha passato il pallone in maniera prolungata sfruttando prevalentemente la superiorità numerica. Quindi, e chiudo anche con questo discorso che mi dimentico sempre di fare, se quando la Juve gioca bene o un po' meglio ci si esalta perché la prestazione è stata buona e lo dico soprattutto chi difende Allegri, dice però la Juve ha giocato bene, perché poi si dice che non si può pretendere dalla Juve che giochi bene quando gioca male? Perché, allora, stiamo vedendo una buona pass map, abbiamo visto una buona pass map? Abbiamo visto delle buone statistiche? Bene, dovrebbe essere un punto di partenza per ripetere questo, cioè se siamo stati in grado di farlo per quanto asterisco 11 contro 10 possiamo farlo di nuovo perché se io poi la prossima partita pretendo esigo o mi aspetto che la Juve faccia una cosa di buono a livello di pass map hit map tiri, passaggi, possesso, eccetera non va bene, non lo posso pretendere, mi devo vergognare perché la Juve è questa, si sa che Allegri non fa gioco e la squadra è scarsa, eccetera, eccetera, poi però quando capita in 11 contro 10 di giocare bene hai visto come ha giocato bene la Juve fai vedere la pass map e come al solito si va a vomitare a vomitare aggressività nei confronti di chi cerca di analizzare la partita vi lascio anche quest'ultima domanda buon dibattito nei commenti e fatemi sapere se il video vi è piaciuto mettendo like iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi al canale a partite da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui la programmazione quotidiana e la partecipazione alla chat dei miei eventi in diretta come le live reaction della Juventus e seguitemi anche sul mio secondo canale Avsim Out link in descrizione per video brevi sul calcio sulla Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti